L'Abruzzo si è svegliato in fascia arancione, tra preoccupazioni e malumori c'è chi comunque non ha voluto rinunciare alle proprie abitudini, come il caffè del bar, ora rigorosamente solo da sporto consegnato a domicilio. Vietato consumare davanti agli esercizi, lecito solo acquistare la consumazione e poi andare via. Il gusto è sempre lo stesso, però c'è una differenza, non stai tranquillo. Non è la stessa cosa. Tutto questo tra le difficoltà di una categoria già in difficoltà per il precedente lockdown. In molti hanno deciso di restare chiusi per un servizio in perdita. Arriviamo al 20% del fatturato, quindi non copriamo nemmeno le spese e preferiamo rimanere chiusi. Come passerete queste due settimane? Non lo so, ora facciamo un po' di lavoretti qui, ne approfittiamo e poi vediamo quello che succede. In vacanza non ci si può andare? In vacanza no, speriamo nel 2021. Questo è tutto. Si è raccolto delle olive, ne approfitti. No, no, no. La campagna non fa per me, grazie. E da oggi divieto di entrata e di uscita dalla regione e di spostamento tra comuni salvo per motivi di lavoro, studio, salute e necessità. Ma l'aspetto evidente è che in 24 ore ha cambiato l'immagine e i suoni delle strade cittadine e proprio la chiusura di bar e di ristoranti per tutto il giorno, almeno per consumi in loco. Molti esercizi per non sospendere le attività si sono attrezzati con l'asporto in precedenza per ovviare alla chiusura imposta alle 18. Chi vende monopoli di Stato ha l'obbligo di restare aperto. È una vera tristezza. Sto aperto per la tabaccheria, ma il bar, la somministrazione non c'è, quindi solo l'asporto. Ma chi prende un caffè per portarsi a casa in ufficio in questa zona? È proprio una vera tristezza. Quanti caffè, quante colazioni hai servito oggi? Ma se siamo arrivati a 10 è grasso che cola di colazioni e caffè. Qualche birra da asporto, qualcosina da asporto, ma proprio... Tutto questo mentre, per molti, l'abitudine del bar e del luogo di ritrovo smarrisce. Ora, pomeriggio, la birra dove ce la andiamo a bere? A casa? A casa, purtroppo ce la dobbiamo bere. Che dobbiamo fare? Ora dobbiamo andare a casa da solo. La solitudine è brutta, non so come passare le ore le giornate.